Il Giappone viene spesso visto un po' come il paese dei balocchi da alcuni e come un inferno di suicidi e viti tristi dall'altra. Ma a bando alle ciance parliamo di 10 buoni motivi per cui vivere in Giappone è un buon vivere. Sicurezza. Questo è un dato di fatto oramai riconosciuto universalmente. Nonostante ci sia una stazioncina di polizia almeno in ogni quartiere in cui poter trovare sempre dei poliziotti, in giro se ne vedono realmente pochissimi e nonostante questo le città rimangono sicure. Certo ci sono quartieri come Ropponghi a Tokyo e a Memura a Osaka dove la possibilità in cui tu possa incappare un incidente con la microcriminalità è più elevata. Anche se questi quartieri, c'è da dire, sono quelli con la più alta frequentazione di stranieri. Efficienza. Che i treni siano sempre super puntuali è un altro fatto ormai noto. In realtà c'è un ma che andrebbe analizzato. I treni sono sempre puntuali per esempio ad Osaka, stessa cosa a Kyoto e Nagoya. Non si può dire la stessa cosa in Hokkaido in pieno inverno, ma non perché gli abitanti dell'Hokkaido siano peggiori di quelli di Nagoya, ma semplicemente perché quando ti capita una bufera di neve che ricopre strade binari con metri e metri di manto bianco, con tutta la buona volontà si possono anche permettere le corse, ma i ritardi sono ben comprensibili. Stessa cosa a Tokyo. Quando ci si ritrova in un treno che deve effettuare 20 fermate e ad ogni fermata salgono 200 turisti con le valigie, che invece di badare a non creare disturbo, creano rallentamenti e una fermata dopo l'altra il ritardo è assicurato. Stessa cosa quando qualche impiegato che purtroppo ha un crollo finisce per decidere di gettarsi sulla Yamanote. Questo per dire che la volontà dell'efficienza c'è, così come l'impegno costante e oltre i limiti in alcuni casi, e certe cose come alluvioni, frane, neve e turisti non si possono controllare. Ma anche se si parla spesso della puntualità della pulizia dei treni, non viene spesso detto che tutto questo andrebbe in realtà allargato verso ogni sorta di servizio pubblico, come gli uffici postali, il sistema di tasse, bollette. Ogni cosa che può in qualche modo essere burocratizzata e gestita in maniera simile ha un grado di efficienza che a volte sembra quasi inumano. Quando si entra in un ufficio postale, il massimo della fila che si trova è tre persone che per giunta si sbrigano in pochi minuti. Qualità. Più lo paghi e più vuol dire che vale. Così dicono i giapponesi e di fatti non ci pensano due volte a sganciare pecunia su due piedi. Comprare inoltre è una manifestazione di sicurezza economica e quindi deve avere un buon lavoro e purtroppo spesso nella mentalità di alcune generazioni avere un buon lavoro è la cosa più importante nella vita. Ma non è questo il punto. Il punto è che in Giappone si punta alla qualità. Certo c'è chi potrà dire, ah ma io ho comprato un frigo in Giappone e mi hanno tirato la sola. Ovvio non si può parlare per assolutismi, ci sarà sempre il negozio che vende merce scadente, ci sarà anche il negoziante truffo al vino, ma nella maggior parte dei casi è il lavoratore stesso che fa punto d'onore e il suo superiore ne fa un punto di dovere, l'impegno per ottenere l'eccellenza. Pulizia. Metropolitane sempre pulite. Treni? Idem. Strade? Non ne parliamo. Sì, è vero, a volte si trovano file di sacchi della spazzatura che sembrano abbandonati per strada, ma questo è legato al sistema di raccolta che non prevede bidoni della spazzatura, bensì un orario o punto di raccolta e poi passano i furgoncini. Sicuramente va tanto di cappello al sistema di pulizia sia delle aziende dei trasporti che cittadino, ma spesso tutto parte dalla base. Se nessuno va a imbrattare con delle bombolette spray ai vagoni dei treni, ad esempio, pulirle diventa anche molto più semplice. Se tutti, dopo aver mangiato, che so, un onigiri, si mettessero in tasca o in borsa la cartaccia e poi la gettassero al primo combini, e ce n'è uno ogni 10 metri per cui, niente scuse, pulire le strade diventerebbe un'operazione veloce e semplice dovunque. In Giappone gli studenti, fin dai primi anni delle scuole, sono tenuti a pulire la loro scuola. Questo gli inculca fin da subito il concetto di rispetto per il mondo attorno a sé, a livello di pulizia, perché sai che ogni volta che sporcherai, sarà per te più faticoso pulire. Onestà. Anche qui ci sarà il polemico mister ovvio che dirà qualcosa come Eh ma io una volta sono stato truffato da tizio in Giappone che... Nella maggior parte dei casi, a meno che non si vada proprio nella peggior bettola di negozio, in Giappone si potrà stare tranquilli e fidarsi dell'onestà di chi si incontra. Questo perché in Giappone il buon nome di un'attività a volte vale anche più della facciota che può permettersi. Per cui, oltre che un fattore di educazione, già di per sé fortemente intrinseco nel popolo giapponese, è anche un fattore di convenienza. E quando convenienza e normalità si fondono, va da sé che il mix è solo positivo per tutti. Uno stato che ti supporta, tutela e agevola, ottiene di rimando una popolazione che non ha bisogno di fare furberie solo per sopravvivere, ma anzi, ben volentieri, paga tutto ciò che c'è da pagare. Arte, cultura e storia. Un diverso modo di approcciarsi alle strutture fisiche legate alla storia non implica né un modo sbagliato, né merita scherno e offesa. Il Giappone ha sempre costruito strutture come castelli e templi in legno. Non c'è da stupirsi o criticare se oggi non rimangono strutture di 2000 anni fa come siamo abituati in Italia, ma da chiedersi il perché di questa scelta. Studiare per scoprire che il legno veniva scelto anche per motivi religiosi, in quanto considerato materiale vivo, che santificava maggiormente la struttura. Terremoti, incendi, tifoni e tsunami non hanno certo aiutato nella conservazione dei monumenti, di qualsiasi genere. Ma il Giappone non si è mai arreso e questo nonostante non abbiano, e non abbiano modo di avere, un colosseo o una piramide. Continuano a vivere e sentire la loro storia in primis nei cuori, poi nelle tradizioni mantenute e ricordate, nello stile di vita e negli insegnamenti. E questo è un sinonimo di storia, arte e cultura, anche più elevato dell'avere i trulli e poi venderli al miglior offerente, o avere bellissime statue che vengono periodicamente imbrattate. Vivibilità. Ci sono servizi funzionanti, onestà e pulizia, e questo già di per sé permette un bel vivere. Ma ovviamente, se non puoi goderne perché sei ridotto alla fame e non arrivi a fine mese, potrai anche avere un bel mondo attorno, ma non serve a nulla se non te lo puoi godere. Sotto questo punto di vista, il Giappone è uno di quei luoghi dove la vivibilità è davvero ben mantenuta. Le tasse non strangolano i negozianti, la criminalità non sovrasta la possibilità di vivere bene, e il rapporto tra gli stipendi ricevuti e le spese mensili è per larga parte della popolazione estremamente positivo, quanto meno dignitoso. Ci sono i poveri? Sì, ovviamente. C'è chi se la passa male? Certo, ma purtroppo questo avviene ovunque, e spesso non si può fare realmente niente, perché ci sono situazioni che sfuggono al controllo, perfino dove c'è una base che permette di vivere dignitosamente per chiunque, o meglio, per chiunque abbia i requisiti per richiedere questa vita dignitosa nel paese. Per esempio, se io sono un Giapponese che non ho mai avuto problemi legali, che ho seguito e rispettato le leggi e mi comporto in maniera conforme a quella rotta, che so che mi darà almeno una vita dignitosa, a meno che non accadano eventi fuori dal mio controllo. Vediamo la tragedia che permane nelle terre attorno alla centrale nucleare vittima dell'incidente del 2011. Un terremoto, uno tsunami, il pericolo della centrale nucleare instabile. Il tutto è stato curato e gestito da uno stato presente e attivo a riguardo. Ma quando i media si divertono a lucrare, inventandosi zone radioattive, mostri marini e cinghiali mutanti, è ovvio che poi chi legge e ascolta queste stupidaggini non vorrà mai comprare qualcosa proveniente da quelle zone. E lentamente, ma inesorabilmente, riduce in povertà quella gente che è stata sfortunata due volte, nonostante l'aiuto e intervento del paese intero, ad essere vittima della natura e poi della cupidigia degli uomini. Rispetto. E qui arriviamo al punto fondamentale, ovvero il fattore rispetto in Giappone. I giapponesi hanno un sistema sociale molto basato sul rispetto, almeno quello formale, e se è vero che dietro al sorriso e alla cortesia c'è spesso il dovere, come se fosse davvero una cosa strana con commesso tratti bene il suo cliente solo per dovere lavorativo, E' comunque un sistema che permette di andare in giro rilassati e non sempre tesi, perché la persona allo sportello delle poste mi ha trattato a pesci in faccia, poi tamarri dietro l'angolo mi hanno offeso a gratis, poi l'autista del bus mi ha trattato male e via dicendo. Sorrisi, inchini, rispetto, cordialità e armonia tra le persone ti rendono la giornata più gradevole, e anche le faccende più sgradevoli, ma che devono essere comunque affrontate e sono meno pesante, perché sai che sarai trattato con rispetto. Sei un gay jean e lo sarai sempre. E' una frase vera quanto falsa. Sì, sei uno straniero e c'è poco da fare su questo punto, perché è anche ovvio. Se sei nato e cresciuto in un altro paese, sei uno straniero. Se il tuo paese è una società, cultura e forma mentis totalmente differente, va da sé che il tuo modo di fare e ragionare sarà diverso, e quello potrebbe crearti qualche difficoltà. E questo va rapportato ad ogni singolo elemento della vita nel paese del sollevante, paese in cui sarai straniero. Ma questa cosa non viene sempre fatta pesare come molti pensano. Divertimento Ci sono divertimenti che ti spendano, ed è un dato di fatto. Se vai a un made caffè ti spendano, e poi è ovvio che se ci vai una volta tanto per provare l'esperienza non sarà nulla di così grave, ma comunque sai che ti spendano. Se vai a comprare vestiti ad arajuku, ti spendano. Se vai nei negozi di action figure, idem. Ma è una cosa normale, direi. Non è il Giappone che è caro, tranne la frutta. Quella è proprio cara. Ma, come in tutti i luoghi al mondo, i prodotti e stili vengono etichettati in base a quanto siano vicini alle priorità e a quanto siano comuni, e quanto invece vadano verso il bene di lusso, che lo dice già pure il nome, lusso. Il giapponese medio ha uno stipendio tale che si può permettere un quotidiano medio, un numero elevato di cose economiche e qualche lusso. Col cambio euro-yen, ma soprattutto una differenza sul livello di tenore di vita medio, arrivi in Giappone e trovi che alcune cose che vorresti tanto comprare o fare costano un botto, e poi ovviamente sta a te. Le opzioni per il divertimento ci sono, sono tantissime variegate e non per forza costose. Unicità Quando pensi ad un dato paese, in genere c'è un aspetto, un insieme collegato di aspetti che te lo rendano affascinante. In Italia abbiamo i monumenti e il cibo, ovviamente. In America ci sono i grattacieli, in Egitto le piramidi. Poi ovviamente un paese non si limita solo a quel punto, sarebbe davvero da ciechi, però diciamo che ha qualcosa di iconico che lo rende affascinante. Il Giappone forse è l'unico posto al mondo che affascina e attira le persone completamente diverse, per motivi completamente diversi. Un esempio? Guardate i turisti, il ragazzo che viene per visitare a Chiabara e godersi il parviso dei manga e la signora che non lascerebbe mai le viuzze di Kyoto e tutto ciò che profuma di un'antica tradizione. Potremmo continuare all'infinito con i tempi zen e l'arte moderna nell'architettura, il robot e la cerimonia del tè. Ecco dieci motivi per cui credo che chiunque possa amare e vivere il Giappone. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!